Il cartellino d'entrata alle 8 e 30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6 e un quarto. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivata a metterla alle 7 e 51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. Cinque secondi per riprendere conoscenza. Quattro secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Più sei per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spense un giorno a sposare con la specie di curioso animale domestico. Tre secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3.000 gradi fare noi! Dagli 8 e 10 secondi per stemperare la lingua rovente sotto il rubinetto. Due secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela. Caffè latte con pettinata incorporata. Spazzolata ventifricio mentoato su sapore caffè. Provocante funzioni fisiologiche che può così espletare nel tempo di valore europeo di 6 secondi netti. 5, 3, 2, 1... Ha ancora un patrimonio di 3 minuti per vestirsi e correre alla fermata del suo autobus che passa alle 8.01. Tutto questo naturalmente salvo tragici imprevisti. Cambio! Non ce la farò mai. E allora? Allora prenderò l'autobus al volo. No Ugo, l'autobus al volo no. No papà! Sì, saltando dal terrazzino. Guadagnerò almeno due minuti. No Ugo, non l'hai mai fatto! Non hai il fisico adatto. Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Ugo! Ma che cosa fa? Prende l'autobus al volo. Coraggio ragioniere! Grazie. Non l'ho mai fatto, 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 non l'ho mai fatto. Non spinga, non spinga! Ma che è? Che è successo? No, no, io, no, io, no! Chi è stato il primo? Si può sapere chi è stato il primo? Lui! Lui! Lui è stato il primo! Aspetta, un momento! Devo andare in ufficio! Devo timbrare il cartellino! Non si può rinviare la discussione! Sono in ritardo pazzesco! Devo timbrare il cartellino! Aspetta, deve firmare, che la responsabilità è sua! Ha una pena! C'è una pena lei? Lei non pure c'è! No, neanche io! Aspetta, come? Affirma col sangue! Ecco, guardi! Va bene, no? Arrivederci! Avanti, Fantozzi, che ce la fa! Coraggio! 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 No, non lo aiutate! Se no, è squalificato! Deve arrivarci da solo! Si, alzi, che ce la fa! Su, non si dia per vinto! Coraggio! Forza, forza, Fantozzi! Forza, Fantozzi! Su, che... Ci mancano appena cento metri! E poi è arrivato! Su, forza, Fantozzi! Dai! Dai! Forza! Dai!